Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio della Soul Link a Pokémon Rubino e Zaffiro Qui con noi c'è come al solito il Rochette immancabile sempre presente L'immancabile, l'imperdibile, l'incredibile, il sovrumano The Legend, il Rochette Oggi che cosa facciamo Luke? Dopo le immense cose che abbiamo fatto nello scorso episodio ragazzi se non l'avete visto vi invito ad andare a vedere Quest'oggi andiamo avanti verso Cicamipoli, c'è incredibile, non me lo sei mai aspettato E Luke dove si trova nello scorso episodio? Eh? È sicuro sul mio canale ovviamente quindi se non avete messo insomma like ovunque E dove si trova invece il link per il tuo canale? Si trova ragazzi con sotto in descrizione insieme alla campanella Mi raccomando non perdetevelo No la campanella in alto a destra Comunque ragazzi mi raccomando lasciate tanti mi piace per sostenere Questa serie sta arrivando in un momento bellissimo di Youtube Proprio quelli belli di momento Sì grande Youtube ti amo, cioè ti abbacerei ma non posso E quindi nulla iniziamo subito perché abbiamo già perso troppo tempo vai Sì ragazzi abbiamo allenato i Pokémon fino al 20 vero Gio? Anche tu hai allenato fino al 20 Tutti fino al 20 ma ragazzi c'è un motivo per il quale li abbiamo allenati fino al 20 Esatto Ossia Luke Ossia perché sta per arrivare praticamente un demone Di nome vero anche in questo percorso è molto molto infame Ma oddio Abbiamo randomizzato i nomi degli allenatori? Eh yes Ergo non si chiama più vero suppongo No è un nome random Ok perfetto O la paralisi di Frigo Che cioè in teoria dovrebbe congelare però vabbè Vabbè ma dettaglio Attenzione guarda che è shot un salame No a momenti mi shotta lui Attenzione Frigo vuole imparare il tornado Però non io lo faccio imparare neanche per... No vabbè volendo potrei tritarti Guardalo Guardalo come mi vuole battere sto salame Ti sta prendendo a botte Niente è più resistente di un semaforo Proprio per dire una parola Proprio per citare un elemento a caso della società moderna Comunque Luke quanti like raggiungiamo Essendo il mio canale ricordatelo sempre Raga io punterai su 225 Cioè proprio te lo dico Ah perché è Rocket 25 giustamente Eh vedi vedi Non ci avevo pensato Eh Luke come ci organizziamo per percorso 103 a sinistra Quizzoteca Sai cos'è? Se c'è una cosa che io odio nei giochi poco E' proprio la quizzoteca Per cui la quizzoteca ragazzi La vedete da qualcun altro Raga io veramente la quizzoteca non la sopporto Non la posso vedere la quizzoteca Voi dovete sapere ragazzi Che io e Luke siamo degli youtuber talmente modello Che noi non è che ci prefissiamo prima dell'episodio Che cosa facciamo Ma andiamo a cazzo Cioè mentre registriamo Ma Luke perché non andiamo a questa Ma si va bene Proprio come se fosse un live Ma così ragazzi Il prossimo solo link in live Sì facciamo in live E poi crazy talk Con i tipi randomizzati Però tipo ad esempio Sul percorso 3 A sinistra C'è uno strumento per terra Che è una vita l'erba Che non posso utilizzare Che bellezza Questo Beh Poteva andare peggio Poteva essere tipo una bacca Delle peggio Delle peggio typing Tipo quelle che sto raccogliendo adesso No però Ecco Ecco è vero Chiediamoci perché non ho ancora trovato bacche per terra Perché si trovano sulle piante In questa gen Oddio C'è un Wigitech Mi ha appena fatto martellata Ma tu dove sei andato Luke Sul 103 Ok stai ammazzando gli allenatori tu Sì è sempre che non mi ammazzino a me Madonna Luke Luke Monello raga Che uccide gli allenatori No raga mi sta rando su Wigitech Guardalo Dai ma Guardalo Per fortuna che è morto sto Madonna Ok Ma stai stavi ammazzando la tipa La puttanella profonda No 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 Il vecchio Il vecchio mi sta ammazzando Il tizio Vecchio Uè vecchio Come va Il vecchio Non so Mi sta ammazzando Ok io vado a ribaltare le bambine adesso Compatti e Dalai Lama Attenzione Perché c'è il pescatore che può Come una livello 5 Ma per Quale problema Adesso dovrebbe tipo Averne uno più forte Funziona così qua I pescatori di stagione funzionano così Luke Sì sono molto Oh stitipo Ho sciottato un riso Ma aspetta Noi siamo a zero morti Non dire niente Che mi appena apparsa Un youtube Da un allenatore Oddio Forse raga È meglio che io stia zitto Perché è obiettivo No ma Già è livello 10 Voglio dire Vabbè a posto No quel cancro di Wabofet Devi morire subito Ok Di brava Non la faccio la battuta Ma aspetta Ma dov'è lo strumento Supercoso 103 E dove devi usare il taglio Ah Aspetta No aspetta Ma io Toglioce l'ho Perché non lo taglio Perfetto Io sai cosa mi ha ricordato Stascena Giù Ma Già sono Abisso Abisso È quella che È quello che Che il mondo Ma Vado 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 Ragazzi Per i tempi Se non avete visto Da solo link Andatevi a vedere Le scorse solo link Perché soprattutto Luke Soprattutto Luke Ha lasciato di quelle perle Di San Che era la magia Ai tempi del 2015 Ok allora Il percorso invece a destra Dove c'è la puttanella di Vera Non è cattura Vero Non è un nuovo percorso Purtroppo Vediamo un po' lo strumento da me Vai Dice energia Messaggio sogno Ah Quindi Sono i messaggi che ti inviamo Shanna Mentre sogni No vabbè Facciamo fin Ok Maccio Che schifo Luke Fuori da questa serie Vai fuori Fuori da questa serie No 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 Ma dovevo fare Vai fuori Vai questa serie Porca troia Boia Mi ha tolto tipo 40 PS con capocciata Bocelli stava per schiattare Gio ti devo dare una news Il mio Il mio Buet di nome E' potentissimo Bella Aspetta Con chi è legato Perché Luke C'ha le copie Dimmi con chi è legato C'ho il foglietto Tatti qua Che vi ho fatto vedere Porca troia Con chi è legato Il little banget Fantastico Sì ma Luke Questo qua mi sta arando C'è un problema Oddio l'ho shottato Che culo Che culo L'ho shottato Che culo No Probabilmente mi avrebbe shottato Se avesse fatto capocciata Ma che pochino ne ho scusa Un Ferrari Gator Ma è impazzito Inchia È impazzito Vabbè il Ferrari Gator ci sta E poi Ragazzi Stava per uccidere È impazzito Non ci credo Cioè Gio ti rendi conto Che ho appena battuto Un dodrio E Crobat vuole imparare Tripletta Cioè Estorsione Cioè ragazzi Sono serio Vabbè Ok allora Io sono quasi davvero Mi carico i pokemon Perché sì Perché sì No io invece sono H ragazzi E vado senza curarmi Non farlo Perché poi ci rimetto io È una soul link Mi sono appena Sono appena Andato da vergio Chi è che la doppia? Rochette Quanto tempo Mentre cercavo altri pokemon I miei sogni Sono diventati molto più Quei cazzo Non lo so Non chiedere Vai Affrontala Ho letto i miei sogni Invece ce l'ha scritto i miei pokemon Sono cieco No 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 Ce l'ha scritto sogni Ah sogni Allora ragazzi Sono doppiamente cieco Fantastico Ok ma mi ha mandato Minchia Exploda al 18 Dio boh Mi ha mandato credo Mi ha mandato credo Io odio credo Mi ispira No che cazzo fai Rafforzatore Fra te Fra te No è ha risito vita una Aiuto Ma Aia Forza antica Di che tipo sono No Giaccio Ok no calma È morto Ho paura No no Comincio a fare bullo No Allora Calma Vabbè finché fai preso Può andare anche E no Le palle Luke fa malissimo Presa con bullo No no Mi sto messando Speculcosa Ok vabbè Ok c'è un altro Raticate al 18 Dio bono No 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 Ho fatto divinazione Aiuto Mi sa che ho fatto divinazione Ok fermi Devo ragionare E mandare un pokemon Che regga No a parte che divinazione Mi sa che ha effetto Su qualsiasi cosa Vero E ora Sì 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 Mi sto di sì Gio Eh merda Allora cerchiamole uno Con una buona difesa speciale Gio Mi ha fatto due volte bull L'ho fatto una volta dragodanza Cioè c'ho attacco fisico Che tipo mi esce Mi esce dal corpo Praticamente Ok patti subisce divinazione Ok non mi ha fatto un cazzo Lol Muori No idrocannone Ho paura Oh no mi ha fatto un cazzo Ma Minchia venus Ma che Al 20 Martin Garrix Animal se si vuole Ragazzi Al 20 No non gli ho tolto nulla Il più forte è al 20 Gio Il più forte è al 20 Ok mi sta muonendo parti Ritirata Ma si Sta schiattando malissimo Aiuto No Gio Devi Non ci Ma c'è giusto Oddio Mi l'ho dimenticato Gio Cosa La storia con Ariyama No cazzo E mo cosa fai Ariyama contro Ariyama Ovviamente Giusto Zampino dai che ce la sto per fare Ahia dragortigli su frigo Ok aretto E' vero che c'è Iyama che mi ha scombito Sette volte all'inizio A livello 20 Ce l'ho fatta Ho rischiato tantissimo Ma ce l'ho fatta No 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 Comincia fuori da godanza Iyama no 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 Io vado a curarmi Luke Oddio Io ho fatto Hai battuto vero? Sì sì Ma è tipo Ho rischiato di perdere Due pokemon Allora Che tipo è Allora calma Ah beh volantaccia Io ho incendio Quindi posso fare un incendio Provala Dai Oh considera che devi ricaricarti eh Beh lui mi sta facendo comete Beh vado shot con incendio spero Shot No Vabbè compasso Sì ma dobbiamo Dobbiamo che pare compasso Ok è morto Ce l'hai fatta hai vinto? No ancora un po' Con l'ultimo Che è? Vediamo L'ombre Ok perfetto ce l'hai fatta Ciao Vado raga Cioè paradossalmente Penso di aver rischiato più io raga Non so Cioè voi che state vedendo tutto Giudicate nei commenti Secondo voi chi ha rischiato di più No Il cane fuori che fa bordello Tanto C'è coso con Tanto Gio si stappa la bottiglia di champagne Ho sentito L'ho subito in cuffia raga Quindi Gio bevi anche la Quindi anche la La drank lock No vabbè Non diciamo nienta No basta Che poi Finisci a super dissing Violente Comunque Ho vinto Ho vinto Aspetta Allora io sono abbastanza sicuro Che Ci fossero degli allenatori Su sto percorso Perché ci sono scomparsi Ce ne sono No Tipo no Ah no Mi sa che erano solo in Smeraldo Eh infatti Esatto esatto Ti ogre Ti ogre L'ho trovato per 13 volte Nella challenge lock E ovviamente Chi ogre Allora questo qua Sembra super corso 110 Cioè ho shotato malissimo Comunque io Lo ribadisco Per chi non l'avesse Vedo prima ragazzi La quizoteca Sinceramente La trovo alquanto inutile Io sinceramente Non gioco pokemon Però Mi sembra solamente Luke Repellente Luke Eh dica Ricordami che hai citato All'inizio dell'episodio Della triade Ah Il caro semaforo Se non ricordo male È tornato Ovviamente lo ammazziamo Perché però Signori miei È arrivato anche in questa serie Il gran semaforo Abbiamo avuto il semaforo John Frog Manca lui Ovviamente Sia per me che per Luke Vale la merda close Nel senso che Adesso ve la spiego questa Se troviamo Il divino In uno dei percorsi Anche se non è prima cattura Saremo tenuti Moralmente A catturarlo E a metterlo nel team Se poi C'è Farfetch Cioè Ragazzi è ancora peggio Sinceramente Oddio Bliss Li muori Se esce Se c'è Farfetch Shiny La serie Ciao buonanotte La serie Se esce Farfetch Shiny Pretendo di raggiungere I 20.000 iscritti In breve Ragazzi Se ne esce Shiny Ok Allora C'è un Parasect Che mi sta facendo Mi sta tirando i calci Mi sta togliendo un PS Io che continuo a fargli I mosse Non molto efficaci Questa è una cosa Molto onesta Giù Però un rimbalzo No Luke No C'è le statistiche di Shackle No Non riesco a buttare Non sto riuscendo a buttarlo giù Ok no Però forse ce la sto facendo Un pochino Sì ce l'ho fatta forse Sì 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 Ok È un cavolo di muro difensivo Che tipo non lo butti giù Manco con Non so Lo sbalco in Normandia Eh 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 Giustamente Per fare Un esempio banale Diamo un po' lo strumento Lo strumento Diamo un po' Un coccio giallo Che mi posso anche Tipo accendere il cammino Dov'è lo strumento Luke Ah mi sa che Ma è tipo nascosto Oppure l'ho già preso No è quello E quello ciclano E poi davanti Davanti alla siepe Sì ma Luke Tu devi andare piano però Perché sennò Eh no Gio ma perché mi ha preso Mi ha preso l'attacco di velocità Ho preso il polvo stella Ma tra l'altro giù forse Ho balzato qualche allenatore No ma aspetta che adesso Tornando anche io un attimo giù C'è qua Upescatur Che ha filo Umane Siamo davanti a Umane Oh sole mio Non mi paralizza Puntualmente Cos'è successo? Intanto Possiamo notare I bellissimi superati di Groguet Di Rubio Zaffiro Che C'è il cancro Bruttissimo Mi ha mandato in campo Caterpie Che ricordiamo Essere stato annunciato In questa serie In maniera del tutto casuale Ragazzi In quel momento Io lo ricordo Ancora che è molto efficiente Se non avete visto Vi ricordo di andare a vedere Allo che mi pare Il quarto episodio Sì sì Il quarto episodio Comunque Gran Pokémon Snorrent È voluto sottolineare Ragazzi È di ursa Ma che cazzo c'è A sto allenatore Il cancro Penso 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 di sì In teoria Non si sa Penso di sì La teoria che è confermata Ok Raccogliamo un po' di baccabane Bigiotto Un po' di Vabbè Non lo dico No Non lo dico Vado a fare troppo dissing Sul serio Che abbiamo già letto Altre cose Tu hai già compreso Mi sa Sì sì Ma ci siamo già capiti Molto Velocità Ragazzi È stato molto veloce Raga vedete che Quando un rapporto Tra due persone Anche sessuale Dura due anni Ok Arriviamo a questi livelli Di comprensione Tra l'altro Luca Io sono a ciclamipoli Che famo? Eh io Siamo a 13 minuti Giò Ancora un po' presto Io affronterei lino E poi farei una cattura Magari a sinistra Che dice Io andrei piuttosto A destra Sinceramente Che ci sono un paio Di allenatori E c'è uno specchio D'acqua Ah beh Sì volendo anche a destra E poi mentania Ce lo teniamo Per il prossimo episodio Così almeno facciamo Palestra mentania Cioè lo facciamo prima lino Adesso Eh sì Lo sto prendendo a botte Ah quindi l'hai già Ben distrutto C'è un explod Che mi ha fatto Un geloraggio Tipo A ghiaccio aiuto Tanto Tanto che aveva da me lino Che non ricordo più Lino Non mi ha ricordato più Che aveva da me Ah Toyser Ah no Beldum Beldum Il semaforo incredibile Sempre e ovunque Diventerà un semaforo Ragazzi Madonna Sto facendo troppi switch Cioè Troppo Sto rischiando troppo Ragazzi Oh Gigassorbimento buono Purtroppo semaforo Hai preparato gioco Con un colpo Di osso raffica Quindi Resti in semaforo Resti in semaforo Ok Perfetto Balzo i dialoghi Vado a curarmi Bye bye lino Dobbiamo di prepotenza E Roshet Mi sono appena reso conto Che sei l'allenatore Che ha aiutato lino A catturare il suo pokemon Ciao eh Ciao amico Ciao eh Ciao amico Grandissimo Io adoro Roshet È uno spettacolo Quando Veramente Lo zio di lino Ok Io invece adesso Sono a destra Sto affrontando Un paio di profumine Così a caso C'è proprio Viste per strade E hanno un combaskan Allora Quanto è l'allenatore Mi ne pare che No 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 Aspetta Luke Luke Obliderio Cosa fa Eh Non mi ricordo Non vorrei che fosse Tipo quella O quella che ti ricarica Forse quella che ti ricarica No Quella è desiderio Cristo Dio Quella è desiderio Il problema Sai cos'è Che Non mi ricordo Aspetta Fammi Poter cercare su google Ok Ok no no problem Penso di averlo shottato Ok c'è un Raichu Io provo a fare un rimbalzo Per evitare No pazienza No 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 Devi morire Rimbalzo Scappa Ok Ok Ce l'hai fatta Sono scappato con il rimbalzo Madonna Mi hai fatto perdere Tipo Un infarto multiplo Dio buono Che infarto Madonna ragazzi Sto shottando la vita C'è il filo del meteor Che si sta arrotolando Sul meteor stesso Che è morto Ho trovato il pezzo da stella Pokémon star sconfirma Incredibile Violento Liccato Punto di domanda Se questo video Mi usciva prima da aprire E al titolo Clickbait Ragazzi Quindi purtroppo Mi usciva prima da aprire Dettagli Settile Io ho fatto un po' di allenatore Non so tu dove Sì sì io sto prendendo Sto prendendo a psico raggi in faccia Un sanslash No 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 Koffing Io me ne vado Io me ne vado L'avete chiamato Io me ne vado No Io c'ho paura Cioè vedi Luke Che è una cosa improponibile Questa Ti sta osservando Guarda Ragazzi Stoppate il video E guardate i suoi occhi Guardate i suoi fottuti occhi Oddio Mi sta vedendo continuamente Sto coso Missy Spillo Missy Spillo Missy Spillo No no Coda di luce No 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 è morto Patty No non è vero Non è morto Cioè allora Questo qua ha fatto Coda di luce Si è aumentato L'attacco speciale Di Di Non so quanto Non voglio saperlo Ma ha fatto Vampata Super efficace su Patty Ma ha tolto 10 PS Krabbi Krabbi Patty Un ottimo Pokemon Devo dire Questo No c'è No No Kanga Kanga No Kanga non va bene Kanga Kanga No abbassa la testa No No Stub di capocciato non va bene Ma non è stab Luke Si capocciato è stab normale È randomizzato il tipo Ah giusto Sono un po' di bombo Tablo in questo periodo Questo pomeriggio Rochette.exe ha smesso di funzionare Bo ragazzi Sarà la primavera che incombe Non lo so Sì sicuro è raga La primavera che per il Rochette ormai è Cioè incombe che poi è già arrivato in teoria Sì in teoria siamo già in primavera Ma noi facciamo finta che Facciamo finta Ascoltate retta a Rochette Perché c'è sempre ragione Perché ricordate ragazzi Che se questo episodio uscirà di domenica Esatto Domani È un'altra settimana È bene La prossima settimana È un'altra settimana Ok Gio Io sono praticamente Sto per pescare Sto per fare Oh c'è questo qua che dice Che la chitarra elettrica Non è sempre rumorosa La si può suonare per produrre Questa melodia commovente Sai che fine fa la chitarra Meglio non dirlo Cioè Però vabbè La sua chitarra Non Abboccato 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 Dai Dai che toggo leggendario No T'avevo su dovuto Che schifo Non si può manco evolvere C'è un albero Però in realtà È l'albero di una barca Che ha affondato E quindi E quindi è tipo Forma Lola Attenzione Amo Abboccato Pensavo se lo trovavamo Dammi il clickbait Tainov Che merda Che schifo Beh a me lo si può evolvere Oh è vero Me lo fai mettere in squadra Aspetta No dai No No vabbè Ha pure ritirato Sto schifo Tainov affronta coraggiosamente persino i nemici più forti Ma frana Bello Lo chiamo Lo chiamo Lo chiamo Crotone Poco imitazione Si camuffa Quindi è un Crotone Che bellezza Ed è Madonna Cioè Ragazzi Pretendo minimo 20 dislike Per sto soprannome Se potete Grazie Sudovudo Il diverso sudovudo era bellissimo Nell'anima Però Mascudo non è una pessima abilità Evita un congelamento Come chiamo sudovudo Che è un mimo femmina Lo chiamano E poi è femmina Se la maschia è un con Allora è un albero Mimo Vegetale No è vegetale È un vegetale Quindi No vabbè Non facciamo black humor No no Non facciamo Vediamo Sudovudo Eh raga Ci vuole un best soprannome Molto ignorantissimo Come piace a voi Insomma No Judo No Judo vudo Non posso chiamarlo Judo vudo Oddio Tipo Masudo Masuda Masudo vudo Oddio Sudo Qualcosa che suda Minchia che moveset Che ha sto Tilo Vosso merang Lancia fiamme Fuoco bomba Ferra artigli Oddio La potenza In serio Qualcosa che suda Qualcosa che suda Tipo sacra sindone Non lo so No No Per favore Per favore Non lo so Aspetta che bevo Magari mi viene l'idea Oddio Allora Lo chiamerò Vabbè Lo chiamo Vabbè Ok via 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 Come l'hai chiamato Tanto già Aspetta Come l'hai chiamato Tu mi hai detto Qualcosa che su L'ho chiamata summer Via Estate Vabbè Facciamo finito di niente Vita brutta Se il tuo sudovudo è buono Io Provorrei di mettere in squadra Per il semplice fatto che si evolve Il mio Tilo Quindi posso fare clickbait Cioè puoi fare clickbait Tipo Tipo ghiaccio Il mio sudovudo Abilità Meno Si potenza con più Che schifo Bellissima La migliore abilità di sempre Fatissi che fanno schifo Mosse Frana Mi si spido Ritirate Calcimboro Maia calcimboro Maia Fa abbastanza schifo Fa abbastanza schifo Vabbè raga Vedremo nel prossimo episodio Insomma Vedremo che cosa fare Troverete qualcosa di molto interessante Sicuramente Sarà molto interessante Vedremo Dai Sul mio canale Comunque ragazzi Direi che il video Può concludersi qua Noi speriamo Che vi sia piaciuto Se così vi invitiamo A lasciare un bel mi piace Un commento qui sotto Rispondendo alla domanda del giorno E un'iscrizione A entrambi i canali Mi raccomando Passate dal canale del Roger Perché Altrimenti Non vedete la serie Esatto Non volete vedere la serie Quindi passate dal suo canale Passate Mi raccomando Non fate i birboni E quindi Buona raga Direi che ci si può Lasciare qui Mi raccomando La campanella A entrambi i canali Per rimanere sempre aggiornati Sui feed Che ogni tanto Sembra che partano Per destinazioni sconosciute Ma si dice La leggenda è un'altra Però non è sicuro Passate dai social Che ci sono le foto nude di Luke E noi ci mettiamo In un prossimo video Bye bye